Le imprese di appalto boccheggiano a Porto Marghera. La provincia di Venezia propone un'associazione per tutelare l'interesse delle singole società. Il servizio. È crisi profonda per le imprese d'appalto di Porto Marghera. Un momento delicato che ha spinto la provincia di Venezia a proporre un'idea, un primo passo per una possibile via d'uscita. Unire in associazione le imprese per tutelare l'interesse delle singole società che da troppo tempo si sentono abbandonate a loro stesse. A Mestre, alla sede della provincia, si è tenuto il vertice davanti ad alcuni rappresentanti delle industrie del territorio. Questa riunione nasce dalla voglia di creare un'associazione, chiaramente creata direttamente dagli imprenditori stessi, che vada a fare squadra, sinergia nel territorio per la tutela delle nostre maestranze e di tutte quelle aziende che oggi fanno manutenzione di Porto Marghera. Sono i lavoratori meno garantiti a dover sopportare il peso della recessione economica, quei precari che rischiano costantemente di essere tagliati fuori dal mercato. Il progetto di un consorzio tra imprese ha anche lo scopo di far sì che i diversi ruoli nelle gare d'appalto siano distribuiti in modo funzionale alle competenze dell'azienda interessata. Nell'ultima gara, negli ultimi affidamenti che Lenny sta facendo su Porto Marghera, ci prospettano dei pericoli per le aziende locali a cui non vengono affidati i lavori che magari sono fatti da una vita. La proposta è piaciuta, ma sulla sua efficacia sono state espresse delle riserve. C'è chi ha infatti lamentato l'assenza di un vero interlocutore tra provincia e industria, guardando con preoccupazione al numero ancora basso di aziende coinvolte.